Qui siamo nell'agenda dove andiamo a gestire quelli che sono gli slot di prenotazione, quindi i nostri fornitori esterni possono entrare in questa agenda e prenotarsi per un determinato giorno e per un determinato orario. Noi dall'interno abbiamo una visualizzazione, quindi molto chiara, di come stanno messi i nostri slot in un determinato momento e se possiamo accettare o meno ulteriori richieste che poi vengono dall'esterno. Nel caso il nostro autista si fosse prenotato dall'esterno tramite la nostra piattaforma avrà ricevuto un ID viaggio e un token che gli permetterà all'ingresso della nostra porteveria, magari tramite un token, di autoregistrarsi. E interfacciandosi con un sistema hardware di sollevamento della sparo, una volta registrato, potremo andare a sollevare la sparo per permettergli l'entrata, fornendogli anche una destinazione automatica che può essere un'area di sosta o direttamente la baia dove è previsto. Grazie.